Un incontro inatteso Ehi, tu, fermo! Poffazze, poffazzissimo! Tempo, tempo, tempo maledetto! Un luogo sconosciuto! Vecchio, ma chi sei? Personaggi bizzarri Altri personaggi bizzarri Personaggi molto bizzarri Bizzarrissimi Tagliateli la testa! Chiamo il boia, eh! Chiamo il boia! Mercoledì, 18 maggio, presso l'auditorium del seminario San Pio X, alle ore 18. Non venite ma buviditi! Grazie! 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 Grazie!